Quinto vlog settimanale per questo 2024 Siamo ufficialmente a metà di questo primo trimestre per cui ci siamo messi determinati obiettivi quindi sarà molto interessante vedere come stiamo procedendo verso il raggiungimento di questi obiettivi Settimana particolare perché c'è stato un nuovo spettacolo di stand-up comedy che sapete essere uno dei miei obiettivi quindi voglio farvi scoprire di più riguardo a quello che è successo lì Arrivo da una settimana di pausa La settimana precedente a quella che vedrete in questo video sono andato anche un po' in vacanza non avevo registrato grandi contenuti ho preferito tenere cose interessanti non darvi un video così tanto per e quindi spero che concentrare più informazioni spero utile all'interno di un video sia apprezzato da parte vostra e devo dire che riflettendoci questa pausa sta anche utile per caricarmi meglio in vista di tutto il resto che c'è da fare Un altro tema importante di questa settimana sarà la dieta che insomma adesso sto prendendo più seriamente ma che è difficile si parla di salute fisica non solo da un punto di vista di esercizio proprio per raggiungere uno degli obiettivi di cui parlavamo all'inizio e niente io spero come al solito che questo video vi sia utile vi lascio alle clip della settimana finita da poco la live del Twitch Tank il format che vai in onda sul canale di Mr. Rip in cui intervistiamo Startup oggi ce ne sono state quattro che hanno fatto un pitch per spiegarci un po' meglio come funziona ad un'azienda format copiato da Shark Tank in maniera proprio palese mi sto approfittando adesso per fare un po' di esercizi di braccia che ieri non ho avuto il tempo di finire e devo dire è un format che mi ha gasato mi ha dato anche un po' più di energie per diciamo ributtarmi nel mondo delle Startup continuare a parlare con fondatori quindi mi ha fatto piacere aver spinto per fare presto questo format l'avevo lasciato un po' da parte ma ecco questo è un buon reminder del fatto che devo continuare a proporre a farlo insieme agli altri chiaramente su base ricorrente perché mi permette di allenarmi a livello di cervello conoscere nuove realtà conoscere nuove persone e penso che sia anche interessante per chi guarda insomma oggi abbiamo avuto 700 persone collegate in live praticamente tutta la sera è un tema difficile sono due ore e mezza di gente che parla e fa domande tecniche su idee su Startup quindi è un format che dà sempre soddisfazioni volevo condividere questo momento con voi perché lo trovo interessante e anche perché il video sarà già pubblico quando mi starete guardando quindi vi invito assolutamente ad andarlo a vedere se non l'avete già fatto buongiorno settimana appena iniziata prima clip del vlog dopo che ci siamo presi una settimana di pausa fondamentalmente dal tracking e reporting vario che ormai ci siamo abituati a vedere in questa miniserie devo dire che è stata forse una buona scelta quella di prendersi una pausa perché adesso mi sento un po' più energizzato per continuare il percorso e soprattutto forse mi ha dato un po' le energie mentali per intanto prendere un po' più seriamente il discorso dieta quindi finalmente ho iniziato a tracciare un po' quello che mangiavo per capire a che punto mi trovavo a livello di consumo di calorie giornaliere e capire se stavo andando bene se stavo andando male e anche per fare cose nuove diverse sperimentare un po' quindi per esempio varie cose a livello a livello sportivo sia il tennis sport che non toccavo da una decina d'anni se non di più surf purtroppo è saltato all'ultimo la lezione ma l'intento c'era io ci sarei andato nonostante le poche ore di sonno che avrei dovuto fare per andare ma poi purtroppo la sera prima mi hanno cancellato la lezione quindi ragazzi io ci ho provato l'intenzione è quello che conta e niente quindi adesso si riparte carichi pronti per la nuova settimana pronti per tornare a tracciare un po' di di info su quello che stiamo e non stiamo facendo a partire dal solo la mattina la camminata ormai canonica di Simbad e lettura che stava avvenendo prima di iniziare questo video nelle orecchie sempre il buon pastorale americana di Roff forse la lettura è stata la cosa che ho trascurato di più questa settimana passata quindi voglio voglio ricominciare video aggiornamento sulla parte stand up comedy è da un po' che non le facevo perché ieri ho fatto il mio secondo open mic lo trovate almeno uno spezzone su instagram già quindi fatemi sapere che ve ne pare mi sono divertito penso sia andato bene ma rischiava di andare abbastanza male in realtà perché non mi sono non mi sono preparato molto bene è un tema di cui mi ero un po' dimenticato fino a quando mi sono ricordato che effettivamente tra 12 ore devo stare su un palco a fare un pezzo un momento mi ha ricordato un po' quello che facevo a scuola e riconoscere questo pattern mi ha un po' mi ha un po' svegliato che cosa voglio dire mi sono ritrovato con quella tipica attitudine di me studente dove mi autoconvincevo a non studiare fondamentalmente perché così nel caso in cui il voto fosse stato basso sarebbe stato colpa del mio poco impegno non della mia poca abilità o intelligenza penso che sia una cosa abbastanza comune uno dei motivi per cui tra l'altro ci sono studi che dimostrano che non bisognerebbe dire ai bambini a scuola che sono intelligenti non bisognerebbe complimentare la loro intelligenza Simba sta cercando di prendere un osso la loro intelligenza ma i risultati che ottengono o il lavoro che fanno su un determinato progetto un determinato test ci sono ricerche interessanti in merito un podcast se non sbaglio anche di Uberman che ormai cito sembro veramente il tipico bianco maschio bianco americano che guarda Giorrogan ma a Giorrogan che non lo sono comunque di questioni a parte appunto questa sveglia un po' mi ha aiutato perché alla fine almeno l'ultima ora ora e mezza prima dello spettacolo mi sono un po' impegnato a ripulire le cose Simba mi sta portando via però devo anche cambiare braccio perché troppo stanco dalla palestra quello sinistro l'altra cosa che mi ha salvato è stata quella di semplificare cioè ho detto ok Tommaso tu non sei prontissimo per stasera vorresti fare questo pezzo che dura 6 minuti in ogni caso tu dovresti avere massimo 5 minuti sul palco poi chiaro oltre 2 minuti in più ti rilasciano che te lo fa fare keep it short keep it simple togli questo pezzo così ti concentri solo su una parte più limitata riesci a farlo con più tranquillità riesci a prenderti meglio i tuoi tempi l'ultima volta andavi di corsa per fortuna l'ho fatto perché sì a un certo punto sul palco ho detto che magari è durato poco però meglio così meglio essere tranquilli a volte su quello che stai facendo avere più tempo per ripassarlo con cura che invece aggiungere 2 minuti che poi ti scordi completamente perché appunto hai provato a memorizzare troppe cose in un lasso di tempo troppo breve quindi questo piccolo aggiornamento sul mondo stand up ieri parlavo anche con altre persone che sono lì che lo fanno da molto più tempo di me quindi tanto da imparare mi consigliavano anche di provare a farlo un po' in inglese cosa sicuramente più facile a Lisbona se ne fanno molti di più quindi vediamo mi informerò in merito che potrebbe essere un'attività da aggiungere alla lista per il portoghese dovrebbe parlarsene a maggio vediamo se le si farà ho provato a farvi il video fuori da vlogger ma che sinastat qui a Lisbona sarebbe andato in bancarotta è impossibile tra il vento e nel mio caso anche il cane che mi tira ovunque quindi vi beccate il solito video intra allenamento mentre mentre lascio riposare le gambe volevo approfittare di oggi per parlarvi un po' della dieta sto vedendo buoni risultati adesso al di là di quello che si vede sulla bilancia che sicuramente è viziato da perdita di liquidi perdita di muscoli però anche visivamente insomma vedo che sto cominciando a perdere perdere del grasso perdere del peso sono più o meno 10-14 giorni che sto intorno tra le 1.400 e le 1.600 calorie al giorno so benissimo che non è sostenibile per una persona che è 1.80 però per adesso sto cercando di sfruttare questo momento positivo psicologico per reggere un pochettino di più consapevole però del fatto che poi tra poco dovrò necessariamente aumentare un po' le calorie questo non è assolutamente un consiglio alimentare non sono nutrizionista neanche lontanamente cioè proprio sono temi che mi sono abbastanza alieni chiaramente ho letto e mi sono informato nel limite delle mie possibilità dopo questa seconda serie non ricordo esattamente dove mi ero fermato però il succo della questione è secondo me ci sono due livelli di lettura su questo su questo tema il primo è che sì la dieta è una maratona nel senso che è qualcosa che bisogna vedere su lungo periodo che bisogna fare in maniera sostenibile però qui arriveranno i nutrizionisti no ovviamente di nuovo mi baso anche su cose che ho sentito da professionisti la differenza con una maratona è che noi non stiamo costantemente pensando e lavorando sulla dieta durante le nostre giornate quindi sulla maratona è assolutamente un'idea insensata quella di fare uno sprint di 100 metri poi fermarsi camminare per un po' un altro sprint di 100 metri non arriverete mai mentre invece quando pensiamo alla perdita di peso o anche altre cose nella nostra vita che hanno un fattore fortemente psicologico come per esempio il lavoro l'impegno sul lavoro ci sta che ci siano dei momenti di 2 3 4 5 settimane 6 settimane nel caso lavorativo magari anche 2 3 4 5 mesi in cui diamo il 90% il 95% che possiamo su quel tema lì diventa un focus importante per noi e cerchiamo di sfruttare anche il feedback positivo che riceviamo da questo comportamento per motivarci a continuare un po' di più quindi appunto nel caso della dieta magari sfruttare i primi risultati positivi per darci quella spinta in più che magari invece di farci stare a 1800 calorie ci fa stare a 1400 1500 1600 fate le vostre proporzioni e di nuovo per favore prendetela più come una riflessione metaforica che non come consigli di nutrizione oppure ancora più importante questi magari successi psicologici ci fanno evitare il cosiddetto rebound no? quindi l'effetto del ah ho fatto la dieta per una settimana adesso vado e mi sfondo di McDonald's e qui si collega il secondo livello di ragionamento cioè ok possiamo fare questi momenti più intensi di lavoro su un determinato aspetto della nostra vita ma è anche fondamentale sapere che poi questo periodo finirà e dovrà finire perché? perché se io adesso mi metto a dieta così dove mi rendo conto che non ho le stesse energie per allenarmi mi distraggo più facilmente sono più stanco poi arriverò a un certo punto e dico ma chi me lo fa fare tanto io così non continuerò a vivere non è sostenibile dovrò cambiare e quindi tanto vale che oggi vado e mi sfondo al McDonald's se invece noi mettiamo dei limiti a queste cose che andiamo a fare e quindi ci diciamo no sai che c'è questo momento di dieta estrema non può durare più di 3-4 settimane oppure nel momento in cui per due giorni di fila vedo che proprio sto morendo di fame mi distraggo in continuazione perché voglio mangiare allora quello è il momento in cui mi fermo e torno a mantenimento a livello di calorie oppure aumento di 2-300 calorie a livello lavorativo è il momento in cui magari mi prendo una pausa in cui magari comincio a lavorare solamente il numero di ore che dovrei lavorare se non abbiamo questo obiettivo di fronte a noi allora secondo me è molto più facile poi effettivamente cadere nel paratro e quindi completamente perdersi e perdere anche tutti i progressi e il lavoro che abbiamo fatto con questo primo step ed è un qualcosa che mi è mancato in passato perché io anche in passato ho avuto dei momenti di forti sbalzi di peso però non avevo mai l'idea di questo traguardo diciamo parziale a dire ok io voglio arrivare a questo livello magari di massa grassa però so che per arrivare lì dovrò fare un primo sprint poi dovrò rallentare un attimo e poi dovrò fare un altro se vediamo tutto sempre come un unico sprint allora diventa molto molto più difficile quindi spero che queste riflessioni in qualche modo possano essere state utili o quantomeno interessanti fatevi sapere che ne pensate e soprattutto ci vediamo tra poco con il resoconto della settimana su ClickUp ed eccoci qui per tirare le somme a questa settimana una settimana interessante dove sono successe tante cose sicuramente uno dei temi più impattanti è stato quello della dieta che è entrato precedentemente all'interno delle mie giornate diciamo dopo tanto tempo sento un po' l'impatto di una dieta differente sulla mia vita ma appunto cercherò di tenere questo aspetto sotto controllo sto registrando questo video qualche giorno dopo la fine della settimana vi posso già dire che comunque comincerò ad alzare un pochettino le calorie perché mi stavo rendendo conto che stavo raggiungendo un punto in cui non riuscivo più ad allenarmi bene in cui pensavo anche un po' troppo a come gestire il discorso del cibo quindi piano piano salirò finché non riuscirò a mantenere comunque un ritmo che mi soddisfa da un punto di vista di cambio di peso parlando di tirare le somme vi faccio vedere un po' il resoconto della settimana allora come al solito le cose che vanno bene sono l'esercizio l'esposizione al sole la lettura in realtà c'era un errore qui sì esatto perché no scusate sabato non ho letto esatto però in generale da questi punti di vista continuano a essere giornate positive anche se questo della lettura è un po' un cheat perché sì sto leggendo ma si tratta quasi sempre di audible e quasi sempre per comunque 10-15 minuti quindi poco però preferisco continuare a farlo piuttosto che non farlo chiaramente sempre passo ora all'americana quindi anche per questo vi dico che sta andando a riletto la lettura ma ecco l'altra cosa di cui mi sono reso conto è ok la meditazione la lascerò da parte non c'è la bandwidth non c'è abbastanza spazio mentale per per darci attenzione al momento e un discorso simile per la parte di day planned quindi fare il time blocking anche se quello mi aiuterebbe anche di più a gestire il tempo quindi per un po' voglio comunque continuare a provare a spingerla lettura la vede un po' simile da questo punto di vista cioè voglio che rimanga un'abitudine da mantenere quando ho più tempo da spendere o quando c'è tempo libero per per aggiungere al mix però al momento mi viene difficile sostituirla per altri elementi su cui mi sto concentrando quindi per ora sono relativamente contento per quanto riguarda altri aspetti diciamo ludici tipo la chitarra anche l'ho dovuta lasciare un po' un po' da parte rispetto alla settimana precedente però insomma nulla di troppo lontano dal previsto quello che ho aggiunto un po' al mix nelle ultime settimane è lo sport in generale quindi ho cominciato a spostarmi molto di più in bicicletta cosa che mi piace molto e che consiglio di fare a tutti molto di più Lisbona non è una città pianeggiante chi c'è stato lo sa non sono mai stato tanto abituato ad andare in bici anche a Roma non è che le biciclette siano esattamente il primo mezzo di trasporto ma è un'esperienza molto interessante molto bella che fa bene sotto tantissimi intervista e quindi è stato un buon sblocco diciamo tra l'altro poi con le bici del comune costa veramente niente andare in giro per la città quindi ho cominciato a fare quello e anche a giocare a organizzare un po' più spesso partite di tennis di calcetto quindi sto cercando di sbloccare anche un po' questa parte qui per quanto riguarda il sonno allora sono stato distrutto nei commenti del secondo vlog che adesso è uscito mentre registro è l'ultimo uscito con la gente che mi diceva che dormo troppo poco e avete ragione devo assolutamente aumentare le ore di sonno diciamo che c'è un po' di contrattazione che devo fare interna devo fare un po' di stakeholder management però sì assolutamente devo aumentare questi numeri e ci lavorerò qualcuno mi chiedeva nei commenti ma non lo senti di essere stanco allora non lo sento tantissimo l'essere stanco durante le giornate però è uno di quei casi in cui magari non sai che potresti sentirti molto meglio e quindi voglio assolutamente provare almeno per una settimana ad aumentare questo numero qui a 7 ore minimo 7 ore e un quarto 7 ore e 20 io prendo dal dal mio samsung watch quello che lui chiama ore di sonno effettive quindi magari le persone sono abituate a 8-9 ore però guardano ad altri ad altri dati questi sono un po' diciamo lower bound però sicuramente numeri da alzare quindi ci lavorerò per il resto sono contento sono contento di come è andato lo spettacolo sono contento che comunque questa prima parte di dieta sta portando risultati interessanti sono anche interessato di vedere cosa porterà la settimana a seguire che è quella durante la quale sto registrando questo video io come al solito vi ringrazio e vi dico che ci vediamo settimana prossima ciao ciao